Ci sono quasi 100.000 euro finanziati con fondi FEPP a disposizione del centro ittico tarantino per promuovere la cozza di Taranto sui mercati con certificati di qualità. È stato finanziato con i fondi FEPP un progetto finalizzato alla promozione e alla valorizzazione della nostra mitricultura e la cosa più importante è che il centro ittico è riuscito a convogliare intorno a questo progetto dei giovani laureati in maricultura ed è una cosa molto importante e gli stessi avranno l'opportunità di poter sviluppare anche un progetto che possa andare al di là del finanziamento. I finanziamenti saranno utilizzati per accorciare la filiera produttiva eliminando alcuni passaggi intermedi e assegnando certificati di qualità ad ognuno di questi passaggi e per realizzare inoltre un'operazione di marketing su larga scala utile a promuovere la cozza Tarantina su riviste di settore, riviste specializzate, sui quotidiani e per creare un blog. Grazie. Grazie.